ANAS ha deciso di prorogare i termini di presentazione delle domande per la partecipazione al bando di riqualificazione delle case cantoniere. C'è tempo adesso fino al 15 novembre per presentare dei progetti imprenditoriali economicamente sostenibili dove ANAS ristrutturerà completamente a proprie spese l'immobile a fronte di un progetto che sia in grado non solo di essere economicamente sostenibile ma anche di valorizzare il territorio nel quale la casa cantoniera è totalmente inserita.